Questi quattro seni zodiacali potrebbero realmente avere un successo infinito nel giro di una notte e questa notte è proprio il 20 di aprile. Se ti ritrovi nel bel mezzo di un periodo della tua vita in cui non sai quello che vuoi, non sai chi sei, non sai perché stai facendo le solite cose, perché ti svegli al mattino e vai a lavorare e insomma ti senti un po' insoddisfatto, è perché diciamo il 20 aprile capiterà quello che ti darà le risposte, ovvero la congiunzione tra Giove e Urano. E ti farà capire, ti farà risistemare tutti i pezzi da sei anni orsono. Ma pertanto vi consiglio di guardare questo video fino in fondo, un video veloce e rapido in cui vi darò dei consigli dove capirete realmente come sfruttare questo, diciamo, transito, questa congiunzione che si crea a vostro pro. Come ben sapete Giove è il pianeta dei miracoli, il pianeta che fa cadere quelle cose che nessuno si aspetta nella vita proprio perché risultano essere impossibili, improbabili. E in congiunzione con Urano, che è il pianeta più eccentrico della Zodiaco, cioè il pianeta quello che vuole tutte le attenzioni su di sé e guarda caso è governato, o meglio sia, il segno dominante di questo pianeta è l'Acquario. Ed è un segno che guarda al futuro con prosperità, guarda al futuro sempre con quella voglia di rischiare. Non a caso è il segno più imprenditoriale dello Zodiaco. Ma cosa succederà nell'effettivo, grazie a questa congiunzione, un po' in tutti i segni zodiacali? Specialmente chi ne ha un'influenza in determinati settori astrologici come quello del lavoro, come quello della professione o dell'affermazione dello status sociale. Succederà che molti di noi acquisiranno più consapevolezza, più coscienza di quello che si sta facendo e talvolta questa consapevolezza potrebbe anche portare, diciamo, a chiudere delle porte, a tirare delle righe davanti magari a delle persone, a delle relazioni o anche a dei rapporti di lavoro. Magari qualcuno di voi sta stretta alla condizione lavorativa in cui si trova, vuoi perché guadagna poco, vuoi perché magari ci sono dei colleghi che non gli stanno a genio o molto semplicemente si sente sprecato. Probabilmente la condizione di sentirsi sprecato, di sentirsi sfruttato, è quella che più accomuna tutti noi. Fondamentalmente in una condizione come quella che si è verificata da sei anni or sono, sono tante le persone che hanno dovuto accontentarsi della condizione in cui si trovano, anche perché la pandemia ha generato parecchi disastri, non soltanto in termini di salute, ma anche in termini professionali e lavorativi. L'economia ne ha risentito. Questo, diciamo, transito di congiunzione porterà invece maggiore prosperità. La consapevolezza che guadagneranno dei seni zodiacali che si ritrovano all'interno del loro tema natale un'influenza, magari anche verticalizzata, nel settore della casa, nel settore del lavoro, nel settore della fortuna, come il suo pianeta parte della fortuna che potrebbe ritrovarsi, per esempio, in acquario, beh, potranno giovare di questo transito e sentirsi, diciamo, più vogliosi nello svegliarsi al mattino, motivati, e magari decidere di mandare a quel paese qualcuno. Ma quali saranno questi seni zodiacali? Fondamentalmente sono scorpione, leone, acquario e toro. Come ben sapete, inoltre, il 29 di aprile Venere entrerà nuovamente in toro e quando arriva nel domicilio, nel suo pianeta, diciamo, nel suo segno madre, diciamo che tutte le cose che uno pensa di voler realizzare idealmente, in realtà, si concretizzaranno tutte. E ricordo che tutto ciò cade a cavallo di questa congiunzione che è di una potenza in mano e per cui, signori miei, se appartenete a questi quattro seni zodiacali, o li avete, anche in un settore che non conoscete perché, appunto, non avete ancora fatto il vostro tema natale, beh, dovete iniziare a farlo perché per sfruttare questa potenza dovete conoscervi e dovete realmente capire in quale direzione andare a puntare per cogliere al 100% la potenzialità di questo transito e quindi farne una fortuna. Se volete approfondire il vostro tema natale, lo potete fare con me. Bye bye.